Benvenuti e bentrovati in questo nuovo video. Oggi trattiamo un tema complesso, perché in effetti la questione del Medioevo, definire il Medioevo, è una cosa in cui anche il più grande degli storici avrebbe difficoltà ad adentrarsi. Beh, c'è da dire una cosa, che innanzitutto chiunque viva in una società non sa di vivere, non sa il nome di quella società in cui vive, né sa come verrà denominata. E' ovvio che per noi il tema della contemporaneità, cioè il fatto della attualità, sia presente, sia familiare. Noi siamo la generazione, siamo gli enti appunto che vivono nel presente, nella società contemporanea. che è un concetto assolutamente relativo, perché la contemporaneità diacronicamente cambia, nel senso che si sposta e segue le generazioni, è come il presente. Né, tantomeno, i Medioevali sapevano di vivere in un'epoca Medioevale. o i classici, non sapevano di vivere nell'età classica, che noi chiamiamo classica, o antica, chissà. Un giorno probabilmente saremo noi ad essere gli antichi per le società di due, trecento anni, non lo so, quattrocento. Successivo, ovviamente. Beh, e quindi chi è che ha coniato il Medioevo, la parola Medioevo? Chi si rendeva conto che tra una grande epoca, che era quella dell'impero romano, della grecità anche, della Grecia classica, di quello che noi chiamiamo la classicità, il mondo classico, cioè dalla nascita della polis, probabilmente, forse anche prima, dal VIII secolo a.C. fino al VI secolo a.C. V secolo a.C., scusate. V secolo dopo Cristo. Beh, sì, probabilmente, certo. C'era una differenza tra coloro che hanno inventato la parola Medioevo, e cioè i rinascimentali, che a loro volta, e forse sono tra i primi a coniare, forse anche gli unici, un termine per loro stessi, perché loro, definendo il termine rinascimento, uno rinasce da qualcosa di precedente, e rinascevano dalle ceneri di un'epoca che era ritenuta oscura, che era ritenuta piena di guerre, di distruzione, di morte, di superstizione, anche di, come dire, abbassamento di quella che è la dignità umana dell'essere umano rispetto alla grande dignità divina, cioè quello che poi è di fatto l'umanesimo, l'antropocentrismo, che avrà dei suoi naturalmente difetti. E li ha ancora oggi. Loro vedevano tra il 400 e il 500 che vi era una netta differenza tra quello del passato, tra il loro passato e il loro presente, ma dipende quale passato. Il passato di Augusto? No, quello di Augusto, quello di Cesare, quello di Cicerone, di Seneca, no, quello è un passato grande, è un passato glorioso, quello di Pericle, di Eschilo, Sofocle, Euripide e Aristotile? No, assolutamente no, quello è un grande periodo, perché lo stanno riscoprendo, stanno riscoprendo questo mondo. E allora qual è? È tutto quello che c'è in mezzo, cioè questa età di mezzo che intercorre fra questa epoca di grandezza classica e questo momento di rinascita. C'è da dire che noi italiani abbiamo una concezione del Medioevo diversa da quella di altri popoli, italiani in particolar modo. Perché? Perché anzitutto nel Medioevo l'Italia è completamente spaccata, prima da invasioni su invasioni e da divisioni tra l'Europa del nord, dove si è in effetti del nord, l'Europa centrale, dove si è concentrato il reale potere del Sacro Romano Impero e quindi nella zona della Germania, della Francia, in banche, e quindi si è persa la centralità di Roma e in cui appunto l'Italia è il campo preferito di battaglia, pensiamo, no? agli scontri tra Federico, Barbarossa e il papato. Vabbè, tutto questo per noi italiani è un periodo molto difficile, molto confuso. E non è un bel periodo anche perché la nostra penisola ha ospitato un grande popolo come quello romano, è una grande società come quella romana o meglio, ne ha dato i Natali per poi nel Medioevo essere relegata a provincia del grande cuore pulsante dell'Europa che si era allontanato più a nord rispetto a Roma e all'Italia, pur mantenendo certo una importanza fondamentale per la presenza del Pontefice. Vedete, se voi chiedete a un inglese, a un tedesco, in parte anche a un francese, che cosa sia il Medioevo, non vi risponderanno che è un'epoca di oscurantismo, anzi, per loro è una grande epoca perché è il momento in cui la Francia diventa uno Stato nazionale, per esempio. o comunque nasce l'idea di Francia, abbiamo la guerra dei Cent'anni, proprio nel Medioevo, abbiamo l'Inghilterra stessa, nell'Inghilterra abbiamo la nascita dello Stato inglese, della società inglese nel 1066 con l'invasione di Guglielmo, il conquistatore dei Normanni, e quindi poi di quella che fatte le dovute differenze è ancora oggi una tradizione continua dal 1066. È un'epoca in cui la Germania, quei barbari che avevano tanto disturbato i Romani, avevano in realtà il potere, perché avevano la centralità dell'impero. Quindi per loro non è affatto un elemento negativo, anzi, è il loro momento, forse è la loro età d'oro, diversamente dalla nostra età classica. E c'è un'altra questione, l'idea di come noi pensiamo alla storia. Fino agli inizi del Novecento la storia veniva vista sotto il punto di vista istituzionale, cioè abbiamo l'epoca classica che è determinata, quella greca, dalla polis, quella romana prima dalla repubblica, prima ancora dalla monarchia dei sette re di Roma, poi dalla repubblica e poi dall'impero. poi abbiamo il Medioevo, poi abbiamo l'età moderna e l'età contemporanea, basata sulla sull'idea di una storiografia istituzionalista, credendo che per esempio l'impero romano che è durato cinquecento anni di fatto, sia dal primo imperatore Augusto all'ultimo imperatore Romolo Augusto sia la stessa identica cosa. Non è così. E sono loro che dicono beh, dato che poi Romolo Augusto o Augustolo come viene chiamato, viene deposto l'impero romano d'Occidente cessa di esistere, quindi finito tutto, basta, è iniziata una nuova età. Ma allora cosa vuol dire? Gli uomini, la società non cambia dall'oggi al domani, né tantomeno è cambiata per altri motivi. Sono sempre gli stessi che poi ritengono che il Medioevo sia durato fino alla scoperta dell'America, fino a cui l'Europa ha perso la sua centralità. Ma non è vero, l'Europa rimane centrale e rimarrà centrale almeno fino alla guerra, alla prima guerra mondiale. Ma perché anche alla seconda comunque? Quindi dovremmo considerare il Medioevo tutto questo periodo? E poi la scoperta dell'America nel 1492. Prima che ci si accorgesse che fosse un nuovo continente passeranno dei decenni. Prima che questo continente venga in effetti considerato passerà un secolo. Dobbiamo aspettare il XVII secolo perché questo continente XVI o XVII tra prima gli spagnoli portoghesi e poi gli inglesi che si renderanno conto delle ricchezze di questo continente. Ma considerare l'impero romano cioè il Medioevo come un'età che va dal 476 d.C., caduta dell'impero romano d'Occidente e al 1492 scoperta dall'America non ha assolutamente senso. prima di tutto perché le due cose non sono collegate l'una all'altra. Semmai potrei capire la nascita o la rivoluzione francese è un momento o comunque il Settecento è un periodo sicuramente di grandi cambi da un punto di vista politico istituzionale sociale ma pretendere e poi dividere alto e basso medievo come se questo risolvesse la questione pretendere che un non lo so un ostrogoto o un longobardo siano la stessa cosa di un bavarese del XIII secolo è assolutamente ridicolo perché è successo scusatemi stiamo parlando di mille anni praticamente più di mille anni in cui non è successo niente in cui si è rimasti quasi addormentati non è vero cambiato tutto sono cambiate tantissime cose perché la caduta dell'impero romano ad occidente cioè il 476 dopo Cristo non è una giusta data per fare inizia del medioevo prima di tutto perché le epoche non nascono da una data precisa non c'è un giorno in cui come la nascita di Cristo l'anno zero prima e dopo Cristo non funziona così nella storia perché l'impero romano era nel 476 in decadenza da un secolo praticamente e non era la stessa cosa del suo inizio non lo era per quanto riguardava i confini non lo era per quanto riguardava le etnie non lo è neanche per quanto riguarda la fede la lingua stessa è cambiata e allora che cosa ha di uguale soltanto l'idea che si chiama impero romano e questa è la storia puramente istituzionalista che a noi non interessa non ha senso di esistere ma già nel IV secolo l'impero romano aveva cessato di essere una grande istituzione poi con la riforma di Diocleziano la riforma la riforma tetrarchica di Diocleziano proprio nella seconda metà del IV secolo scusate del III secolo beh l'idea che questo grande impero che andava dalla Britannia cioè dalla tua Inghilterra alla Spagna al Marocco fino alla Turchia e al Reno e ai confini di parte della Germania di oggi era troppo grande per poter essere controllato da un unico potere centrale che stava a Roma quindi Diocleziano divide l'impero in quattro fasce la tetrarchia tra due Cesari e due Augusti e poi c'è un'altra minaccia 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 per quella che è in effetti lo spirito della latinità della romanità cioè il cristianesimo il cristianesimo non ha origine romana è vero che poi sarà dare il suo contributo a cambiare a far cambiare quella che era la visione il modo di la forma mentis oltre che la religione dell'impero romano ma lui stesso anche il cristianesimo sarà comunque influenzato fortemente dalla dalla romanità nel 313 dopo Cristo l'imperatore Costantino permette ai cristiani di esercitare la loro fede liberamente ci sarà il breve periodo di Giuliano l'apostata ma comunque e poi con l'editto di Tessalonica nel 380 dopo Cristo il cristianesimo diventa la religione di stato e nel frattempo nel 325 comunque c'era stato il concilio di Nicea che aveva stabilito tantissime norme in base anche e grazie convocato da Costantino ma in base a quelle che erano le esigenze romane latine l'idea del Natale stabilito nello stesso giorno della nascita della festività legata al Dio del Sole e non è un caso che Gesù Cristo fosse nato prima di tutto non è nato nell'anno zero ma comunque è nato quattro anni prima va bene ma che fosse nato il 25 dicembre è molto difficile anzi ritengono che sia nato in realtà a marzo Gesù Cristo comunque non ha importanza da un punto di vista religioso però ha importanza da un punto di vista della storia capire quanto il cristianesimo si sia spinto e quanto la romanità abbia influenzato il cristianesimo quindi se noi proprio vogliamo far iniziare il Medioevo prima di tutto dobbiamo capire che cos'è io ritengo che il Medioevo sia la commistione tra cioè l'unione tra quello che da un punto di vista legato al i romani direbbero negozium cioè a quella che è la vita pubblica a quella che è anche la vita giuridica il mondo giuridico il mondo politico io direi che l'unione tra questo legato alla romanità cioè la romanità e il mondo classico lascia il segno pur non esistendo più l'impero romano d'occidente ma ancora l'impero romano d'oriente durerà fino al 1453 comunque è questo insieme alla dottrina cristiana giudaico cristiana cioè unione tra romanità e cristianità questo è il Medioevo non a caso e vabbè l'impero romano sarà caduto e questo è senza ombre dubbio nel 476 non se ne accorge nessuno che sia caduto perché tanto ormai era in disfacimento da quasi un secolo quindi ormai non c'era più niente è stato soltanto un colpo di mano che ha riguardato Roma e poco più della sua provincia del territorio circostante perché il resto era ormai in mano ai barbari o comunque in mano all'impero romano d'oriente che ripeto o l'impero bizantino come si chiamerà che durerà per altri mille anni quasi mille anni fino al 1453 quando verrà conquistata da Costantinopoli dagli ottomani ma questa situazione di unità allora se noi dobbiamo considerare il Medioevo come tutto questo e questo non nega e risponde benissimo al fatto che il cristianesimo sia stato l'idea di romanità cioè l'idea del potere che va bene poi ci sarà una lotta tra il potere è ovvio che non è più il potere considerandolo il potere come quello della grecità il potere della polis è il potere monarchico il potere neanche assoluto perché non è il potere assoluto è un potere diverso l'assolutismo è un fenomeno molto più più talo nel fenomeno tra il 6 e il 700 guardate bene non c'è nessun assolutismo nel Medioevo non esiste il sovrano che decide fa quello che vuole deve rispondere all'esercito deve rispondere ai nobili all'aristocrazia deve rispondere anche al clero e al papato principalmente ma Carlo Magno quando conquista gran parte dei territori della Germania della Francia e parte dell'Italia si fa incoronare imperatore nell'anno 800 25 dicembre dell'anno 800 e l'impero non si adotta ancora proprio nel periodo di Carlo Magno la denominazione sacro romano impero ma comunque si adotta poco dopo il sacro romano impero e questa è la parola che descrive benissimo il Medioevo che è un fenomeno europeo non esiste il Medioevo asiatico cinese o giapponese o africano o delle popolazioni mesoamericane precolombiane non esiste o per gli indiani d'America perché dovrebbe esistere? perché loro non hanno né il concetto di cristianità né il concetto di romanità che è presente in tutto il Medioevo allora quando è che questo Medioevo quanto lo facciamo durare questo Medioevo? beh io direi che è un processo lento che trova sicuramente una sua ormai espressione tra il 313 e il 380 dopo Cristo cioè quando l'impero romano assorbe il 325 assorbe quella che è la cristianità dentro le sue istituzioni tant'è che l'imperatore romano o gli imperatori romani hanno un forte potere di unione della cristianità dell'oicumene questa idea ecumenica che poi quando cadrà l'impero romano d'Occidente viene di fatto presa dal Papa e dalla Chiesa alla quale dobbiamo molto dobbiamo tutto quello che è la tradizione dei testi del mondo antico quindi la Chiesa di fatto e anche del latino la Chiesa diventa a suo modo una supplente mi piace usare questo termine supplente di quello che era l'impero romano prima poi cederà parte del potere almeno del potere temporale al sacro romano impero sebbene vorrà riprenderselo con la lotta per le investiture ma che è una cosa molto meno spirituale non ha niente a che vedere col mondo della Chiesa col mondo della teologia non ha niente a che vedere e quando lo facciamo finire con la scoperta dell'America ma no perché l'America ancora oggi è cristiana e romana l'idea è che abbia è una repubblica molto simile a quella tra l'altro a quella romana cristiana è cristiana sì con la caduta di Costantinopoli cioè nel 1453 52-53 scusa un momento di amnesia non ricordo benissimo l'anno ma anche quello ormai l'impero bizantino si era disfatto e tra l'altro non erano neanche cristiani si erano cristiani ma non erano neanche cattolici si erano divisi ma comunque la centralità era sempre nell'Europa per questo Carlo Magno è uno dei patroni dell'Europa uno dei primi fondatori dell'Europa così come molti papi lo furono e lo sono stati e se allora il Medioevo è l'unità dell'Europa almeno dell'Europa dell'ex territorio dell'impero romano a parte l'Oriente sotto leggi da politica ideologica militare anche dei romani del romano dell'idea di romanità tant'è che l'impero sacro romano impero è tutto tranne che il romano ma ne rivendica il diritto romano non vuol dire di Roma mettiamola con questo campanilismo vuol dire erede di quello che era l'idea di impero cioè il dominio assoluto non del monarca ma assoluto in senso lato in senso ampio di territorio dei popoli cristiani quindi del popolo cristiano sotto l'idea di cristianità questo spiega le crociate le crociate cose sono una protezione una liberazione dei territori legati alla cristianità è una difesa dei territori della cristianità in seguito solo la prima andrà bene tutte le altre crociate non è che siano andate benissimo e ci saranno crociate interne quella contro gli albigesi per esempio mi viene in mente una o un tentativo di crociata contro i bizantini nel 1204 con la conquista breve poi sarà di Costantinopoli non vorrei errare comunque siamo siamo lì ma scusate invece un altro momento importante quando si spacca l'idea della cristianità intesa come oicumene come ecumenismo come unità dei cristiani sotto la protezione o del papa o dell'imperatore Guelfi e Ghibellini ma va bene ma i re cristiani cattolici romani che fanno comunque capo a Roma da un punto di vista spirituale non a Costantinopoli non a Treviri non a Milano non a Nacquisgrana o a tutte le città che volete comincia con la riforma protestante quando Martin Lutero pubblica le sue 95 tesi e di fatto comincia la spaccatura perché lo stesso lo stesso sacro romano impero subirà questo contraccolpo tant'è che ancora oggi la Germania è divisa il sud dovremmo arrivare alla guerra dei 30 anni che fu una guerra religiosa tra cattolici dell'impero tra i cattolici e tra i protestanti ma siamo nel 600 nel 618 e nel 648 che poi pone le basi del cui us regio e us religio cioè la religione del sovrano di quel determinato regno principato ducato contea eccetera quel territorio che poi componeva il grande mosaico del sacro romano impero la fede del sovrano era di fatto la fede di quel particolare regno per questo la Baviera per esempio ancora oggi il sud della Germania è principalmente ancora cattolico e anche qualche isola nel centro e nell'oriente nell'occidente della Germania e gran parte della Germania centrale e settentrionale è invece protestante mentre tutti quei territori che non erano facevano parte dell'impero Marti Lutero e del resto tedesco l'Italia è cattolica vero la Spagna è cattolica la Francia è cattolica va bene con dei problemi interni l'Inghilterra poi l'Inghilterra non sarà più cattolica sarà anglicana lo scisma ci saranno i calvinisti tra la Svizzera anche in Germania e in gran parte della Gran Bretagna e poi anche in America in effetti quindi se vogliamo far terminare questo Medioevo forse dobbiamo cercarla nella prima nella riforma protestante di Lutero a cui seguì la proprio definitiva separazione tra i cattolici e i non cattolici e i protestanti cioè col Concilio di Trento verso la fine del secolo dura molto il Concilio di Trento in cui di fatto la Chiesa Cattolica si rinnova ma resta ferma sulle sue posizioni non accetta la teoria la dottrina protestante per niente quindi c'è una divisione ma nel frattempo c'è un'altra questione che il mondo si è cambiato è evoluto da un punto di vista artistico da un punto di vista scientifico tecnico da un punto di vista Carlo Magno usava i cavalli con gli zoccoli e aveva i ferri di cavallo cosa che i romani non avevano i ferri di cavallo ti permettono di fare molto più strada questa è una grande differenza come c'è una differenza tra la nostra epoca di automobili e l'epoca di quelli che si muovevano ancora a piedi o in carrozza o l'epoca degli aerei e l'epoca senza aerei è una grande differenza la cucina stessa in cui la scoperta dell'America ha avuto un ruolo fondamentale arrivano patate arrivano fagioli arrivano pomodori arrivano tante cose e noi avremo tempo di studiare di capire la letteratura ma la letteratura è cambiata anche il dolce stil novo è un modo di poetare ma diverso da quello per esempio anche di Francesco d'Assisi di San Francesco d'Assisi o delle gesta eroiche delle chansons de Roland per esempio di tutta quella di quella letteratura o di quella poesia va bene di quella attenzione artistica di quella produzione artistica e anche letteraria in gran parte manoscritta di copisteria legata alla cristianità non si parla più di Dante stesso va bene nella Divina Commedia ma Dante il dolce stil novo Boccaccio Petrarca va bene ma ditemi voi se hanno ancora un legame con la cristianità dove l'uomo è sottomesso a Dio quasi dove ciò che conta è Dio cosa c'è di Dio? è cambiato tutto l'uomo è già al centro ai tempi di Dante lo è già nella fin del 200 lo sarà nel 300 quindi stiamo bene attenti quando parliamo ormai l'idea del Medioevo è un'idea superata dobbiamo rendercene conto è un'idea che non sta più in piedi perché a questo punto dovremmo considerare Medievali tutti quelli che sono arretrati e beh allora il 900 non è un'epoca parte del 900 un'epoca di arretratezza il nostro mondo di oggi non c'è gente arretrata non ci sono paesi più o meno arretrati scusatemi l'idea di arretratezza poi da che pulpito cioè da quale punto di vista mi volete dire che il libro inventato nel Medioevo il manoscritto il codice è un'arretratezza e beh ovvio per noi scrivere a mano ormai è un'arretratezza ma all'epoca era una cosa l'invenzione della stampa che avviene nel Medioevo ancora è una cosa ma è una cosa di una modernità assoluta di una di un'avanguardia quindi è ovvio che se rimaniamo incatenati all'idea che il Medioevo il Medioevo è tante cose va bene il Medioevo può essere anche dalla fine dell'impero romano d'Occidente alla fine dell'impero romano d'Oriente 476 1452 153 non ricordo perdonate questa mia svista io con le date sono sempre stato un pessimo un pessimo storico se lo vogliamo guardare da questo punto di vista va bene se lo vogliamo guardare da un punto di vista culinario la cucina dei romani si è evoluta si è evoluta anche quella del Medioevo tra l'altro il Basso Medioevo si è evoluta dopo va bene anche quello ma chiamarla età di mezzo perché perché età di mezzo dove sta la retratezza dove stanno le guerre non c'erano le guerre ci sono ancora oggi le pestilenze ci sono ancora oggi le epidemie la peste non c'è più va bene ma ci sono tante altre malattie forse oggi più pericolose la cristianità non c'è più c'è ancora l'impero il sacro romano impero il riunire i popoli che hanno una radice comune cioè quella romana e anche cristiana non esiste ancora oggi che cos'è l'unione europea perché fare entrare la Russia per esempio o la Turchia nell'unione europea è già qualcosa che desse a preoccupazione rispetto a far entrare la Spagna perché loro sono come noi già i turchi i turchi sono musulmani hanno una lingua diversa e i russi i russi sono sì sono cristiani ma sono sono ortodossi già gli inglesi per questo gli inglesi non ci stanno bene in Europa insomma però sono territori conquistati e va bene può andar bene la Polona la Polona è cattolica e va bene questo ci sta ma allora dovremmo considerare i paesi del Nord Africa no perché quelli che facevano parte dell'impero romano sono musulmani cioè hanno sviluppato una cultura diversa da quella dell'Europa in maniera generica guardate che la fede è stata in questo che si chiama Medioevo un tramite un contenitore di cultura e di tradizione e di identità che ha formato un continente quello europeo parte di quello europeo per mille anni e quello asiatico medio orientale nord africano da parte dei musulmani dell'islam a sua volta lo ha fatto sradicando quelle che erano le radici romane che non erano radici ma comunque quella quell'innesto della romanità e della cristianità quindi il Medioevo è una cosa molto complessa i costumi ma se prendete Carlo Magno Carlo Magno si vestiva come si vestiva un imperatore romano del quarto secolo scusate non è che si vestisse in maniera diversa come un qualsiasi legionario così come i suoi uomini è ovvio però che un uomo del trecento si veste in maniera diversa però sono medievali tutti e due allora qual è la differenza è ovvio che la storiografia si deve interrogare proprio su questo cioè sul fatto che siamo sufficientemente lontani dal Medioevo e dalla e anche da una certa visione della storia per poter cercare di capire meglio questo lungo periodo di mille anni che non può essere identificato con un nome unico cioè età di mezzo età di mezzo niente scusatemi tra il mille e il duemila è successo di tutto perché non dovrebbe succedere di tutto tra il 476 il 1452 il 1492 il 1511 tutto quello che volete anche il 1648 con la pace di Westphalia taluni la fanno finire il Medioevo perché dovremmo catalogare tutto questo sotto un'unica idea così come anche l'idea di classicità vi lascio con questo interrogativo che è un interrogativo aperto a tutti ma io lo risolvo in questa maniera il Medioevo non esiste è una convenzione così come l'idea di età moderna piano piano vedremo che non ci starà molto stretta e anche l'idea di classicità forse dovrei imparare meglio a usare i numeri cioè le date piuttosto che usare i nomi canonici Medioevo età classica moderna postmoderna non lo so comunque spero che questa conversazione vi abbia acceso alcuni alcuni dubbi questo è l'importante che deve fare una persona non deve risolvere io non devo risolvere i vostri dubbi io vi devo mettere in testa dei dubbi ai quali voi dovete poter rispondere da soli perché questa è la maieutica cerco di essere socratico anche da questo punto di vista vi saluto e vi ringrazio per la vostra attenzione a presto